Ci sono tre cose che dobbiamo ricordare, tre parole che costituiscono un motto importante per la nostra vita. Mangiare il giusto, mangiare giusto e mangiare di gusto. Mangiare il giusto significa non comprare troppo, non riempire troppo il nostro piatto di cose che poi forzosamente finiranno nel secchio della spazzatura. Mangiare giusto significa ricordarsi che tutte le persone che hanno contribuito con il loro lavoro a fabbricare il nostro cibo devono avere il loro premio, devono essere giustamente retribuite. Ed infine mangiare di gusto, perché? Perché dobbiamo abituarci a mangiare bene, ad apprezzare quello che mangiamo. Cose buone, semplici ed economiche.